Ancora ben trovati dalla redazione di Chiranze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradaria regionale. Ricordiamo che è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in A12 in uscita provenendo dal Livorno e in entrata verso Livorno. Il provvedimento è in vigore fino al 29 di marzo. In Fipili Coda per veicolo fermo in avaria in direzione mare tra Ginestra e Montelupo ci troviamo al chilometro 16,4. Siamo al traffico ferroviario. Sono proclamati da alcune sigle sindacali autonome scioperi nazionali del personale del gruppo FS italiane dalle 21 di questa sera, sabato 23 alle 21 di domenica 24 marzo. Gli scioperi nazionali potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di frecce, intercity e treni regionali di Trenitalia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Buon viaggio in Toscana Info, servizio e collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.